ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video vabbè citazione allora noi siamo stati al mercato di campagna amica e adesso stiamo andando alla fiera di San Costanzo perché oggi a Perugia è festa e cade di domenica potevamo fare un giorno di ferie invece no e quindi adesso andiamo alla fiera a Borgo 20 giugno quindi se non c'è troppo casino faccio vedere un po' di fiera noi siamo venuti alla fiera che poi è come il mercato del sabato però noi continuiamo a venire ragazze ci sono i vestiti poi ci sono di nuovo gli uomini che puliscono i vestiti gli uomini che puliscono i vestiti e più o meno è tutto questo c'è una versione ridotta della fiera dei morti sì e anche del mercato del sabato è un mix è molto piacere dica dica dici sto proverbio questo lo dobbiamo mettere assolutamente ha un freddo regà mi rendete conto è il napoletano vorrebbe la mia pronuncia che bello a chi pazzè a cuo ciuccio non le mancano cauce scusate lo facciamo vedere a chi dà fastidio non le mancano cauce a chi dà fastidio a chi ha pazienza alla fine rimedia calci non è una traduzione proprio letterale no non credo ma tu perché ridi scusate abbiamo un uomo coraggioso che assaggia ha un sospetto ha un sospetto ma non ha una conferma rispetto a una tagliatella normale è molto collosa è tipo secondo me sa un po' di farina integrale sì no però collosa credo sia dovuto al fatto che l'abbia riscaldate forse non erano collose non erano collose questa sarebbe quindi la famosa farina di grilli? lo sarebbe però aspetta non è che la farina non è tutta farina non è tutta farina eh ci sono anche grilli ci sono anche grilli quanto dura questo vino? niente vabbè tanto cosa mangia tutta lui e invece qui abbiamo una donna poco coraggiosa assaggia ma tu sei sicuro che non sei ancora riscaldata? no no tutto ok lo facciamo per la scienza per la scienza attenzione amici che fanno cose è già una vendetta è pasta al sugo forse avete fatto un sugo così buono no no è solo passata con un po' di soffritti noi stiamo preparando però ve lo dico vermino va bene va bene mini svuota la spesa settimana americana dell'idol ovviamente sul canale stanno già 395 video sulla settimana americana dell'idol abbiamo già assaggiato tutto quello che si poteva assaggiare quindi oggi abbiamo preso solo le pizze per Luca e Giacomino quindi restate sintonizzati perché dopo ci potrebbe essere Giacomino allora spicy pepperoni immagino che sia di Luca e poi abbiamo cheese che immagino sia di Giacomino e poi abbiamo anche dei chicken nuggets questi c'erano con la salsa barbecue proprio con quello al formaggio e poi abbiamo delle birre e poi Chiara ha trovato questi i Bustel vegetali bomba e ho trovato anche questi che non li avevo mai mangiati i cordon bleh vegetali della Valsoia mai mangiati penso che stasera lo assaggerò e basta però si? ah e le uova basta questa era tutta la nostra spesa scusate dimenticavo c'era Giacomino e questo è Billy chi è più bello? Billy o Giacomino? Billy ma che domande però ci abbiamo pure Giacomino Giacomino? è Bibbo buongiorno è un po' che non mi parlo della fermata dell'autobus perché sti giorni ho preso quello dopo è freddo molto freddo direi freddissimo però tipo adesso poi più tardi fa freddo ma non così vabbè comunque oggi è martedì ancora martedì settimana lunga molto lunga autobus ti prego passa fa troppo freddo mamma mia beh basta devo mettere dentro le mani perché c'ho i guanti ma c'ho questi con i dita così e si gellano ciao finalmente a casa c'è una bella giornata di sole oggi Luca si è fatto i capelli però stiamo finendo una cosa quindi ve li faccio vedere tra un po' vi faccio vedere il risultato finale tra un po' che in realtà poi l'avrete già visto perché nel frattempo avremmo fatto altri video quindi già l'avete visti vabbè comunque vabbè adesso stiamo ultimando la cosa e li ha fatti perché qui a Perugia io non so se lo sapete ma c'è una scuola di parrucchieri proprio una scuola alla stazione praticamente loro lavorano sulle testine sulle teste quelle con i capelli finti ma se ogni alunno se vuole può portarsi il proprio modello o modella e Luca c'ha un amico che fa questa scuola e infatti è andato gliel'ha fatti lui è una cosa figa io non sapevo cioè io ho sempre fatta modella per capelli pagata chiaramente per le aziende però non sapevo che c'era anche questa cosa della scuola quindi voi siete chiaramente non vi pagano però neanche pagate poi voi siete d'aiuto per i ragazzi che studiano e e in più tornate a casa con i capelli fatti figo certo so persone che stanno studiando non è che state andate al parrucchiere di Belen però poi guarda che fine ha fatto Belen col parrucchiere quindi meglio vabbè comunque niente era per dirvi che Luca si è fatti i capelli e adesso stiamo ultimando un passaggio metali scusate abbiamo appena finito di registrarvi i dettagli ma perché nel wiki vlog devo fare sta domanda questi sono i capelli di Luca intanto mostra i capelli anche nel wiki vlog ma qualcuno non l'ho visto non è che tutti vedono tutti i video purtroppo questi sono i capelli di Luca posso farli tornare normali così secondo voi l'ananas è un frutto anche tipicamente natalizio cioè se pensate alla tavola di Natale c'è l'ananas vi prego scrivetelo nei commenti secondo me si cioè sulla mia tavola di Natale l'ananas a Natale in cucina c'è sempre sempre tutti i Natali c'è stato l'ananas ora lui dice di no io dico di sì quindi per favore ma io dico di no anche perché sì a Natale si compra l'ananas tutti i Natali con lei a casa sua c'è stato l'ananas poi Caterina se lo scorda in cucina però l'ananas c'è stato quindi non è così importante te l'assicuro non è che non si scorda che ne so non si scorda gli spaghetti con le mongole si scorda l'ananas si scorda pure patate al forno l'ananas si compra nel periodo di Natale scrivetelo nei commenti per favore grazie ciao Billy molto bello mi faccio salutare anche da Riccardo ci siamo tutti vieni Ric salutali secondo me c'è l'ananas Riccardo mi saluta e vi dice ciao ragazzi io sono Richard e voi chi cazzo siete ciao ciao a tutti sono triste perché ho registrato un video e adesso ho messo le clip nel computer e mi sono accorta che l'ho registrato in una qualità bassissima ma non posso rifarlo perché era un unboxing quindi che rifaccio cioè non ha senso e quindi voi avrete visto un video quello delle cover di Shein in una qualità imbarazzante perché già l'ho registrato con l'altro telefono quello vecchio perché dovevo provare cover sul telefono nuovo chiaramente e quindi già la qualità è minore in più ho sbagliato a settare la telecamera e quindi è HD 30 che fa tipo schifo mi dispiace tantissimo e Luca sta cercando di consolarmi ma ma si non ci riesce perché quando sbaglio mi mi mortifico proprio sono triste uffa comunque ho fatto il tonalizzante a Luca quindi adesso cosa vuoi aiuto un'aggressione quindi adesso è tipo lilla però vabbè adesso con queste luci schifo non si vede ma no poi adesso anche quei capelli messi così sono così triste dai Bruce ti rilassati mi dispiace scusate perdonatemi sto per assaggiare l'hamburger dell'MD vegetale allora non c'aveva un bell'aspetto in padella e manco un buon odore questo invece so dell'Eurospin però adesso assaggio assaggio all'odore gli do un 2 però assaggio un e mezzo no no e lo sapete a me piace sempre tutto sembra aceto no 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 continuo a comprare quelli dell'Eurospin per hamburger vegetali no no c'è qualcosa di sbagliato proprio no me ste cose mi mandano ai matti allora stamattina sono uscita ho preso un altro autobus perché dove prendo una box che tu go al tabaccaio che sta sotto a via 20 settembre che apre alle 7 e mezzo mi ho detto ci vado prima del lavoro così non ci devo andare dopo col cavolo perché alle 7 e 37 arrivo in via 20 settembre il tabaccaio è chiuso e non posso aspettare perché devo andare all'ora quindi ci devo andare dopo perciò ho buttato un pezzo della mia mattina potevo essere già al caldo del lavoro invece sono al ghiaccio e al gelo queste cose cioè non lo scrive che apri le 7 e mezza se non apri le 7 e mezza non è la prima volta che mi succede con questo tabaccaio però sai una volta una svista così non è una svista bene vabbè il bello è che passando di qua la mattina vedi questo vediamo il lato bello della giornata ci sta mia giornata è drammaticamente cambiata eravamo in palestra ma è arrivato l'idraulico quindi siamo tutti venire via dalla palestra di corsa e ora sono tipo forse due ore che siamo qui con l'idraulico che cerca di sistemare lo sciacquone che non sciacquona cioè non lo sciacquone sciacquonava ma gocciolava però gocciolava poco adesso sono stata 20 minuti a raccogliere acqua dal pavimento per poi arrivare alla conclusione che va cambiato non tutto lo sciacquone ma il tubo perché l'idraulico precedente l'aveva tagliato troppo corto che bello e quindi ora a parte avere le mani congelate perché ho raccolto l'acqua stiamo aspettando i pezzi di ricambio per poi ricongelarmi per raccogliere altra acqua però c'è il sole bisogna sempre guardare il lato così stagionata è cominciata malissimo dal tabaccaio chiuso stamattina ad ora penso non possa peggiorare più di così non lo so considerando che io invece avevo in mente di fare tre video oggi non ne ho fatto ancora neanche uno e uno devo fare per forza perché è il mukbang delle risposte alle vostre domande bene ho freddo perché ho le mani ghiacce ma non fa freddo in realtà bello bella giornata ciao sono Chiara e ho appena scelto il mio regalo di compleanno ma forse anche di Natale e del compleanno dell'anno dopo visto quanto costa cioè io mi sono appena accorta che è uscita una piastra di GHD GHD se vuoi mandarmi la tua piastra possiamo provarla su dei capelli molto sfibrati non credo che succederà ma comunque mi sono appena accorta che è uscita una piastra di GHD che dai capelli bagnati te li asciuga e te li alliscia cioè senza il phon cioè ciao phon la piastra fa tutto da sola e poi se li vuoi ancora più lisci ma già lì è liscia in un modo pazzesco ma se li vuoi ancora più lisci diventa piastra ma che senso ma che magia è questa ma che stregoneria è mai questa ma io la voglio però costa la bellezza di 399 euro che è comunque meno del forno dei Dyson se ci pensi e questa è pure una piastra però sono comunque 399 euro per una piastra phon non lo so non lo so la voglio chiedere al folletto del compleanno a Babbo Natale alla Befana anche al coso di Pasqua al conietto di Pasqua e pure a quello degli anniversari del matrimonio che non so chi è però pure a lui lo voglio chiedere no vabbè ma c'è follia andatevela a guardare cioè è una cosa ah così così rimani così cioè che il forno dei Dyson è una puracciata in confronto capito cioè tu ti passi sta cosa i capelli lisci e asciutti forse però uno dovrebbe poter provare prima di comprare 400 euro di una cosa così fantascientifica dice che poi interviene i capelli pazzesco ha dov'ho provare dov'ho trovare un modo di provarla se qualcuno di voi ce l'ha mi fa sapere grazie allora come promesso v'aggiorno sulla questione best before per chi si è perso l'altro giorno ho fatto un video dove prendevo questa mystery box tipo to good to go ma direttamente online e da un sito che in realtà è simile a to good to go ma non è proprio uguale perché praticamente loro vi danno la possibilità di scegliere tra un catalogo quindi c'è proprio uno shop online ma di cose che sono o in scadenza o con le scatole rovinate ok tipo però potete proprio scegliervi i prodotti e tanti di questi prodotti sono biologici senza glutine hanno molte cose un po' più di micchia diciamo un po' tipo natura si è un'applicazione non è un'applicazione perché controllo di che è un'applicazione non è un'applicazione fate l'applicazione così almeno posso dire che è un'applicazione comunque l'ho trovata per caso con una pubblicità di facebook si rega ogni tanto uso ancora facebook non so perché soprattutto perché ci sono ricordi su facebook tipo l'altro giorno facebook mi ha ricordato che era il compleanno della nostra vecchia chihuahua vabbè comunque mi capita sta pubblicità ci compro sta scatola ma arriva sta box comunque andate a guardare video se volete sapere tutto perché sennò di cosa stiamo qua a parlare fatto sta che uno dei prodotti nella box era scaduto era scaduto a maggio 2021 ora credo che non si possa vendere quindi io ve l'ho detto nel video mi sa che non puoi vendere una cosa che è scaduta pure se il tuo intento è quello di recuperare il cibo e per carità il prodotto in questione ne è che scade però comunque in Italia purtroppo ancora non si possono vendere i prodotti con scritto best before cioè da consumarsi preferibilmente entro ok nello specifico la cosa in questione era una bottiglia di olio che cos'è ma copriti ma sarai scemino dicevo nello specifico la cosa era una bottiglia di olio ovvero questa vedete che c'è scritto 5 2021 ok quindi niente tutti qua io vabbè io ho intenzione non ne va finta di niente di chi se ne frega tanto comunque ci ho fatto il video pace invece sto cane non è normale comunque cioè vi rendete conto perché se non c'è la coperta come gli piace a lui non si acquieta mettiti giù amore di mamma mettiti giù dai ti prego che strazio dicevo non volevo fare la rompiscatola faceva niente insomma pace però tanti sotto a quel video mi avete consigliato scrivigli anche solo perché magari non se ne so accorti e lo levano quindi presa da questo spirito ho detto sì in effetti se nessuno gli odisce loro continuano a vendolo poi magari trovano quello che veramente rompe il scato e gli fanno causa cose così non mi sono immaginata un scenario più catastrofico come faccio sempre quindi gli mando un messaggio su whatsapp e gli dico ho preso una box da voi faccio video su youtube tutti quanti i miei follower mi hanno consigliato di segnalarvi la cosa perché così potete porre rimedio per le box future gli mando la foto e gli dico l'olio è scaduto nel 2021 e loro mi rispondono subito tra l'altro la sera dico alle 21 e 10 quindi super efficienti grazie della segnalazione ci dispiace molto per l'accaduto non sappiamo come possa essere successo perché faceva parte di un lotto acquistato da un produttore con una scadenza 2023 c'è stata poi sicuramente una nostra svista nella logistica e ce ne scusiamo se sei d'accordo possiamo procedere con il rimborso o con un cambio prodotto grazie ancora per la segnalazione ci scusiamo per l'accaduto ci auguriamo che gli altri prodotti salvati siano stati di tuo gradimento sì nel senso che mi sono mangiata quasi tutto solo il succhetto non l'ho bevuto ancora ce l'ho nel frigo perché succhie frutta d'inverno mi si ghiaccia al cervello ma i muffin l'ho mangiati e sì sono muffin senza glutine diciamo che non sono muffin sopraffini però erano buoni perché se si sentiva cannella si sentiva mela i frullini si è mangiati Luca e la barretta quella azzurra è terrificante però non dipende da loro dipende proprio dalla barretta era terrificante allora io gli ho scritto tranquilli non c'è problema scaduto sì ma tranquillamente utilizzabile provvederò ad avvertire chi ha visto il video della vostra correttezza perché mi sembrava giusto dirvi che mi hanno risposto subito ai 9 di sera cioè top loro mi scrivono grazie mille della comprensione colgo l'occasione per rispondere alle domande che hai sollevato nella tua recensione quindi carini hanno anche visto il video confermo che siamo aperti che siamo appena nati e man mano stiamo crescendo aggiungendo sempre nuovi prodotti effettivamente è vero perché se ci andate a guarda adesso i prodotti sono già molti di più quindi effettivamente crescono ci vuole tempo uno ha un'idea è una start up sicuramente non è una cosa che considerate che noi siamo molto affezionati a 2 good 2 go e va bene però 2 good 2 go c'è in tutto il mondo cioè è una cosa mondiale è una potenza è un impero capito non è una cosetta così questi invece sono dei ragazzi che tra l'altro c'è una persona reale dietro perché ci sono stata a parlare 9 di sera quindi esistono quindi bravi bravi bell'idea c'è tanto spreco quando si parla di produttori ed essendo una start up ci vuole un pochino di tempo per avere la forza di arrivare ad una quota di prodotti soddisfacente perché loro il prodotto lo vanno a prendere proprio dall'azienda ma non dai multinazionali dalle aziende un po' più di nicchia ed è per questo l'olio biologico il prodotto senza glutine è un po' più ricercato come prodotto però anche quelli fanno spreco quindi vabbè le box invece non sono per noi un prodotto di punta ma daremo sempre spazio all'acquisto con possibilità di scelta quindi non hanno lo spirito della mystery box come the good to go che te pigli quello che te danno abbiamo visto che non sempre è un bene ma qui puoi proprio scegliere il tuo prodotto solo che comprando prodotti con la data di scadenza ravvicinata bella idea ma ho visto che secondo me ci sarebbe pure too good to do questa cosa perché l'ho detto sul video a voi mi è sfuggito ma l'altro giorno hanno aggiornato tipo l'app 5 minuti e poi l'hanno cancellato questo aggiornamento ma da quello che c'era scritto sembrava tipo così comunque la box è per avere un risparmio maggiore e allo stesso tempo salvare più prodotti con però l'incognito su quello che si troverà chiaramente se hai altre domande scrivici pure il giorno dopo completamente inaspettatamente perché io non gli ho chiesto niente cioè io ho detto bella ma l'olio mi tengo tranquilli mi mangio lo stesso io ho problemi mi hanno scritto buongiorno Chiara ti confermo che in data odierna abbiamo predisposto il rimborso per il prodotto che hai ricevuto con la scadenza errata abbiamo rimborsato l'importo dell'olio ovvero 6,08 euro restiamo a completa disposizione per qualsiasi dettaglio e io l'ho ringraziata chiaramente perché non vi ripeto non avevo chiesto un rimborso non gli ho scritto per avere un rimborso assolutamente gli ho scritto solo perché così evitavano di metterlo in altre box come mi avete consigliato voi giustamente perché alla fine è un po' come l'altra mattina sono andata al bar ho preso il ginseng ma bevo il ginseng era freddo ma freddo cioè tipo a parte sopra era la diebita più bevevo più diventava congelato io ho detto se no a quello dopo faceva uguale scusa ma non è che io voglio essere quella che fa rompiscatole però se mi bevo l'ho pagato e non cioè non è che l'ho pure bevuto però era freddo cioè magari ti arriva uno dopo e gli dai il ginseng freddo pure a quello perché nessuno lo dice no non è così l'ho detto capito quindi io l'ho detto solo per questo motivo non perché volessi qualcosa in cambio però loro sono stati super corretti e quindi se c'è qualche problema sulla box o su un prodotto coordinate sappiate che hanno un servizio clienti eccezionale a quanto pare rispondono pure alle 9 di sera e non è da tutti va bene comunque oggi è venerdì fa freddo ho fatto una lavatrice i cani dormono sul divano e niente anch'io mi sa che sto andando a dormire sul divano io sto andando in palestra il 5 4 febbraio ho solo la felpa fa caldo molto caldo caldissimo cioè che quando sono arrivata in palestra sono sudata con la felpa strano molto strano allora io sono a casa da sola che Luca è andato a suonare stasera mi sto preparando la cena adesso in realtà ci sto registrando un video con questa cena quindi vabbè poi lo vedrete penso forse già domani o martedì comunque ho l'ansia perché fuori ci sono un sacco di rumori perché c'è un vento oggi sembrava estate e faceva caldissimo sono andata in palestra a piedi e faceva caldissimo adesso c'è stato un vento ma un vento forte cioè che tipo mi fa sbattere la tenda gialla della zanzariera volano le cose e quindi ogni tanto i cani cominciano a boiare vabbè insomma ho l'ansia però vabbè sto qua è una porta dentro casa mia se la vedo quindi è a posto e niente quindi mi sto preparando la cena i cani dormono fuori fa freddo penso a questo punto perché questo vento me l'avevano detto che sarebbe cambiato il tempo comunque ma perché sono così luminosa cosa succede non lo so vabbè comunque niente questo wiki vlog si potrà anche concludere qua perché durerà sette ore visto che vi ho detto un sacco di cose non mi ricordo se vi avevo già detto che per la box i2good2go di cui sono rimasta molto molto delusa ho scritto pure a loro stavolta la settimana dei rompi scatole ho scritto pure a loro e io ho detto ma scusate manca qualcosa in questa box no no mi hanno scritto il valore è quello indicato questi sono i prodotti che ti aspettavano zitte muda no zitte muda non c'era però hanno detto che è giusto il valore oh sto bruciando la burger ok l'ho salvato la burger niente quindi mi hanno detto il valore è quello è giusto bene io non credo sia giusto voi nei commenti ma avete scritto che non pensate sia giusto sì se i prezzi li gonfi sì ma se vai al supermercato io sono sicura che quelle cose non costino così però va bene ok fine polemica fine polemica e anche fine vlog anzi wikivlog quindi da questo wikivlog dove sono successe un sacco di cose è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao